musica 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 bene ragazzi, allora torno davvero prima che come immaginavo devo andare qua su qua la devo muovermi sennò come potete vedere mio stione musica 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 anzi ragazzi aspettate un attimo perché qua musica musica credo che dovrebbero abbassarvi perfetto ok ragazzi ottimo munizioni very good carico colpi però io qua mi ricordo che c'è un meccanismo ah se qua mi arriverà i passaggi si dai non ho ancora che spari ok ok eee 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 compania? no no meglio così anzi qui si che c'è una compagnia vabbè eee ecco la più difficile sarebbero due di compagnia qua eeeh immaginavo ma va il culo ecco 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 sbagliato che tasto non importa ottimo ragazzi è andato meglio di quanto credevo adesso passaggio smidro e ho sicuramente la rotola di questa giusto? no forse no vabbè meglio così ok eee passaggi perfetto clit medico piccolo adesso vedo dove arrivo altre munizioni altre munizioni ah ho capito dove sono arrivata hehehe qui è bella tosta e devo stare anche molto attento perché c'è la lava che cava qua come potete vedere ok 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 qui su così mi prendo il pit è meglio grande che fa comodissimo ok eeeh ah 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 qui devo andare in basso eeeh se di qua bene ottimo ah se qua ragazzi è dura perchè perchè le cataforme cedono sul mio peso meno male allora qua una donna santa che paura che l'ara che paura che l'ara si va si va ho atteso questo momento per svariati millenni ti rendi conto di quello che hai fatto il sangue sulle tue mani credi sia stato versato per il bene dell'umanità ma per soddisfare i tuoi desideri guarda dentro di ti l'ara il tuo cuore è avido quanto il mio questo questo lo pensa lei bene ragazzi sono giunto le battute finale potremmo battere questa armare dell'acqua adesso da distruggere le sue belle ali che si ritrova quella stiamo andando eh però sinceramente vedo vorrei la mia l'arama la mia la mia l erana la mia l'arama la mia Qu'è già finito? Qu'è se? Oh, l'aiuto. L'aiuto all'a. se non è che la massa se non lì niente dove sei? dove sei? non ricordavo di far scuola di fissa sono geniali non è? non è? non è? non è? dove sei tu? non ho aggiornato nessuno ti ho visto dove sei andata sa? va dai skype da me è una… ai un po' di mano va? 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 Ce l'ha fatta Non posso molto stupida Prima o poi i tuoi proiettili finiranno E' veramente stupida da creare una cosa del genere Che l'area è solita di punti illimitati E' stupida, vieni E' un baffo ancora Ma cazzo Vai stupia Niente, mi capisco quel cazzo diare di merda che ci ne trovo Stronza Dove sei? E' un'altra, un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Non è, non è, non è Un'altra E' un'altra Forza! Su! E! No! No! Claro, Selecta! Ya, Selecta! No! Ota stanza! Mali! Näikö se maa? Su! No! No! Erba! Fankyo! Oh! Trepa! Tepa! 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 Cosa sei riuscita a ottenere così? Nulla. Non procrastinare l'estinzione della tua razza. Quest'isola è solo un frammento di Atlantino. E io ne troverò un altro. Ma tu, Lara, tu hai perso tutto. No, ti sbagli. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.